Wintex Vagotex S.p.A., fondata nel 1980 nel veronese, è situata in un meraviglioso ambiente naturale caratterizzato da vigneti e paesaggi suggestivi. Il suo essere impresa si basa su due aspetti fondamentali. In primi su una grande attenzione alle persone che vi operano attraverso un costante investimento in sicurezza, formazione e coinvolgimento nelle strategie aziendali e poi la continua ricerca della qualità e dell'innovazione sul prodotto. Wintex è da sempre focalizzata su settori tecnici, dove la competenza, gli standard qualitativi ed il controllo delle fasi produttive rappresentano le chiavi del successo. Gli investimenti sono indirizzati all'ottimizzazione del processo produttivo attraverso impianti sempre più performanti e controllati informaticamente. Le certificazioni di processo sono un'altra priorità, così come le certificazioni di prodotto rilasciate da enti internazionali. Queste caratteristiche collocano l'azienda ai vertici dell'offerta internazionale in termini di performance, qualità ed affidabilità. I prodotti Wintex sono conosciuti in tutto il mondo per elasticità, impermeabilità, traspirabilità e protezione antivento e si rendono indispensabili a chi svolge attività sportiva outdoor. Più di 100 tipi di lavorazione su 23 impianti di produzione in 16.000 metri quadri coperti, 54 collaboratori, laboratorio certificato, 5 milioni di metri prodotti all'anno fanno di Wintex Vagotex S.p.A. un partner strategico in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di mercato. L'esperienza, la propensione alla ricerca, la flessibilità e l'elasticità sono parte integrante del DNA aziendale e quotidianamente messe a servizio dei propri clienti, in Italia e nel mondo.